Questo è il primo servizio che faccio in maniera così live su YouTube ed è tipo giornalismo, tipo reporter, giornalismo, la verità su Pisa però. Oggi parliamo dell'acquata che è successa stanotte e che ha avuto influenza su oggi. Sul fatto che Cisanello ora è diventato un famosissimo pacco acquatico. Abbiamo mandato Kiwi a giro con la cene presa per vedere com'è la situazione e vi lascio al servizio di Kiwi stesso. Cisanello possiamo dire che è in una situazione alquanto critica in quanto l'acqua ha preso possesso di qualsiasi cosa, strade, piante, terreni, garage specialmente. Allora, io ho il congelatore che ha trovato il posto dove appoggiarsi perché se ne ha balleggiato. Inoltre possiamo pure dire che c'è stata la mobilitazione per sgomberare l'acqua ma molte persone si sono messe a farlo da sé. I vigili del fuoco stanno provando di tutto per togliere più acqua possibile. C'è chi pensa che sono lì solo per figura, altri invece solo per aiuto o per far vedere il proprio sostegno alla popolazione italiana. Quindi ogni cosa è conquistato dall'acqua. Siamo proprio in un vero parco acquatico naturale, proprio naturale. Ci sono state molte lamentelle da parte di varie persone dei propri garage, dei propri luoghi, dei propri mezzi, degli appartamenti. Ma diciamo la parola a Diego che è sempre da giù che aspetta. Gli atti, da Kiwi è tutto. Allora, questo era il primo video, il primo servizio realizzato da Juan Diego Bianchi e Kiwi. Vi invito a iscrivervi alla pagina Facebook Kiwi e alla pagina YouTube questa. Commentate se volete commentare e ci vediamo poi. Ciao!